Numerosi sono i controlli che la polizia locale di Manduria e le altre forze di polizia sul territorio stanno eseguendo per verificare il rispetto delle misure di contenimento del contagio da coronavirus, come disposto dai vari DPCM del governo, recepiti anche dalle ordinanze del comune di Manduria. Da un primo bilancio di questi giorni nesce un quadro positivo. La comunità sta reagendo bene rispettando le prescrizioni imposte per sconfiggere il virus. Non ci sono denunce, anzi, tutti sono preparati e i controlli sono già muniti di autocertificazione per i validi motivi indicati nella normativa, oggetto dei successivi riscontri. Non sono solo le auto che transitano ad essere controllate, ma anche gli esercizi commerciali che hanno adottato precauzioni igienico-sanitarie per assicurare almeno un metro di distanza interpersonale tra un cliente e l'altro. Intanto, ed ieri, la notizia di numerose partenze da Milano verso il sud rispetto all'ondata di arrivi, che soprattutto nei weekend si verifica, il dato che interessa Manduria è in netto calo. Dall'8 marzo si stanno controllando anche tutti gli arrivi con i pullman e sono in costante diminuzione, anche perché la Flixbus ha sospeso la tratta sino al 3 aprile e fra qualche giorno si fermerà anche la Marino Bus. Grande lavoro anche sul fronte sanitario e su quello della solidarietà. Da qualche giorno è tutto pronto per accogliere eventuali casi di positività da coronavirus. Nell'area antistante il pronto soccorso dell'ospedale Giannussi di Manduria, i volontari della Proci, Varci, Manduria e del Ser Avetrana, il distaccamento di Manduria, del Ser di Avetrana e l'associazione ERA hanno allestito la tenda per il pre-triage. Il dottor Francesco Turco, primario del pronto soccorso, ha spiegato brevemente come si accede. Tutti i pazienti si devono recare nella tenda di pre-triage, lì troverete due infermieri che chiederanno i vostri dati e successivamente vi avvieranno in uno dei percorsi programmati. E poi la raccomandazione, usate il pronto soccorso solo quando è necessario, rimanete a casa, voi potete, noi no. Per quanto riguarda la solidarietà, lavora attivamente H24 la protezione civile di Manduria che ha attivato anche il servizio di consegna della spesa a domicilio per gli anziani e per quanti non possono spostarsi perché in isolamento. Un servizio puntuale svolto con competenza è tutte le precauzioni del caso che ha trovato il gradimento di quanti non possono spostarsi per fare la spesa e che ringraziano moltissimo i volontari per questa disponibilità. Sino al 3 aprile prossimo, ovvero sino al termine della situazione di emergenza, che impone misure restrittive alla circolazione, gli anziani che necessitano di supporto per accedere ai beni di prima necessità o anche di medicinali, possono rivolgersi al seguente numero della protezione civile di Manduria, 380 428 56 03.